salve ragazzi tutto bene come va allora eccoci qua da quanto tempo si effettivamente da quanto tempo non gioco a spiderman ps1 si 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 infatti ho le cuffie oltretutto si si mamma mia siamo rimasti qua e vediamo di andare avanti ragazzi ormai è uscito pure i film di spiderman tanto ero arrivato al fatto che venome ci dà supporto noi qua dobbiamo arrivare verso carnage credo se non sbaglio uno dei primi posti da affrontare effettivamente carnage dovrebbe essere dottor octopus però non mi ricordo la raga la trama è molto vecchia però mancherebbe poche puntate poche parti raga vi assicuro che andrà bene anche se io credo aspettate scolami ecco oh e va eh buone uno mo ok fate che sto bellissimo no io devo vedere la versione aggiornata quella che hanno fatto da remastered che si vede pure le mani però non mi interessa allora io mi sono andato concentrato ragazzi no ma che cacchio di brutto colpo no ho sbagliato ho sbagliato ho sbagliato ho sbagliato ho sbagliato ho sbagliato no ho too no 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 Eh vabbè ho perso Ma dai Per un colpo Che noia Allora il vero trucco Allora è semplice ok 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 Prima devo togliere di mezzo quello che fa La perlustrazione Prima di abbattere Devo battere Quel coso e poi Ok è tosta Cioè forse credo che forse E venga Mi faccio pure male Lo so ragazzi è noioso fare così Però è venuto in modo per sbarazzarmi di questo Nooo non mi scocciare Eh vabbè Non mi scocciare Ma dai Non riesco a inquadrare No e vabbè dai Un attimo Ah ce l'ho fatta Ed è solo uno ragazzi È solo uno Io dovevo andare per di là Io dovevo andare per di là Io dovevo andare per di là Nooo non mi scocciare Nooo non mi scocciare Ho paura di Allora non vorrei far cavolata Allora io non voglio far cavolata Eh faccio una cosa Lo so uno direbbe Di non farlo Ovvero è così Scusatemi ma Voglio essere sicuro Quindi lo salvo in slot 1 Scusatemi È solo che voglio essere sicuro Che se posso passare per di là Quello è uno spiderman Ho visto Raga ho visto bene Spiderman ho visto Visto uno spiderman Ho visto Fasemi vedere che cacchio ti devo fare Perché veramente Mi sto Perché io devo capire Il mio da fare No Ok Ah forse Che cacchio è che devo fare Madonna Già ho poca Non me lo fa Devo fare qualcosa Questo ho capito Però Aspetta Sì scusate Che sono talmente concentrato A capire che devo fare Perché io qua Queste da un Io queste forse Sono quelle poche parti Che io effettivamente Io effettivamente E l'ho amato Uh era Era semplice Forse era effettivamente Che uno pensasse Oh cavolo Non è Non l'acqua, è l'umidità. Oh, da dove è venuto? Il basso del Bugle di Daily. Chi che controlla i generatori ha dovuto essere qui. No, lo devo distruggere per forza. Ah, ok. Se lo devo distruggere non me la tiene. Ok. Ok. Eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua. C'era un po' per curarmi. Buono. Bello, grande. Ecco, vedete quando poi scoprite le cose a caso. C'era un po' per curarmi. Oh, da dove è venuto? Ahia, 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 ahia. Oh, ho capito, è la madonna. Ahia. Ok. Quindi è di qua, allora è di qua. Madonna. No, è una sottospecie di corso contro il tempo, quindi... C'era qualcosa che non va, non ho preso bene. L'ho preso. Che cos'è che manca? Ah, è aperto questo. Ah, ok. Ok. Uh. Hey, hey, l'impostore! Ah, 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 ah. Non lo sapevo. È bellissimo. Ho immaginato la cosa del... Oddio, ho immaginato la scena, quello là di Spider-Man che si guarda vicenda e dice tu, 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 sono io, io sono Spider-Man. Oh, tu sei Spider-Man. Bellissima. Oh, mi è piaciuta. Mi è piaciuta. Sei salvo, salvo, sì, sì, sì. È... È... È disgraziato quella parte. Quella parte è troppo disgraziata, raga. Troppo. Mamma mia. Mamma mia, troppo disgraziata. Oh, misterio. Dove affrontare il misterio. No, little spider, you will die. È troppo tardi prima di essere amici. Oh, che figata. Non me lo ricordavo proprio. Si, come, perché secondo me questo ero quando io ero piccolo. Ciao, abbiamo viel d'oggiato, Spider-Man. Si vede che devo abituarmi, non mi ricordo proprio, ragazzi, ma mi ricordo proprio Però sono contento, però sono contento, sono contento che devo affrontare l'ultimo Benvenuto nel lito, scusate, no, uno l'ho preso, dai ce la faremo Alla con l'impact wets, take'em out, you'll have to be better than that, Mysterio You're now match for me Time to do a little pest control Dude, capes are out this year Time to do a little pest control No, l'avevo preso Ahia Beh, almeno ti ho preso, ah, devo farlo due volte You have to be better than that, Mysterio What? What are you doing? In realtà è molto triste Ahaha, careful now You're working for the wrong people, Mysterio Nooo, volevo schivare uno, ma ho preso l'altro Però sono, ho quasi fatta e posso batterlo In realtà è molto più semplice di quanto uno, perché si sa pensare After I take you down, I'm going after your boss Nooo, dai No, no, non dimmi che ricomincerò da capo Dai, ti prego di no Ok, ricomincerò da capo Ok, ricomincerò da capo Allora, ho capito da batterlo Welcome to your nightmare, Spider-Man No, ma ho fregato, perché in realtà era il tram Dude, capes are out this year Time to go to the pest control You're working for the wrong people, Mysterio You think you've beaten me? Think again, Spider-Man Nooo, I feel like I've used to get much to think of this You're not meant for me? In realtà è stup- Eh, vabbè, ma questo qua davanti è tosto questa parte Vabbè, facciamo così, la stoppiamo qui Perché lo possiamo battere, però Mi sta fregando Quindi al prossimo video, raga Dai, cercheremo di finirlo prima del nuovo anno Eh, prima che ricominci il nuovo anno Spero di sì Qui del 38, al prossimo video Passo e chiudo Bella, raga Grazie a tutti Grazie a tutti